Il 13 e il 14 aprile torna in piazza della Libertà Salerno la non edizione della Salerno Corre, una gara podistica nazionale di livello bronze con percorso omologato di 10 km sotto l'egida della Fidal. Il 13 aprile alle 16 si terrà l'apertura del Villaggio Eventi per accogliere i partecipanti provenienti da tutta Italia per il ritiro dei pettorali con stand dedicati alle eccellenze nazionali e territoriali per attività di promozione e pubblicizzazione. La gara si svolge lungo il lungomare per 7,5 km fino a raggiungere Piazza della Libertà con il quarto Fit Walking Day incluso. La Salerno Corre, gemellata con la Strabollese, conclude il 7 settembre con l'assegnazione del sesto trofeo Salerno Corre verso Polla, dimostrando come lo sport riesca a unire due territori distanti 70 km, tra i partner sottenitori della manifestazione anche la Banca Montepruno. Questa mattina in questo salone meraviglioso si parla di sport ma si parla anche di reti, si parla di unione e noi siamo stati coinvolti da più anni dall'associazione di Polla diretta da Rino Di Leo che ha voluto a tutti i costi che ci fosse un'unione di rete fra noi e la Tralica Salerno. Da qui nasce un concetto di rete, quel concetto a noi tanto caro, quello di mettere insieme le forze, le energie cercando di fare sempre del nostro meglio. Quindi di conseguenza qua stiamo a suggerire un accordo, un'intesa ancora presente con la nostra banca che sicuramente farà bene, farà bene alla città di Salerno che non è seconda a nessuno in queste iniziative, ma farà bene anche al nostro territorio dimostrando che noi ci siamo e quando un territorio c'è significa che è vivo e noi abbiamo tutto l'interesse che questo venga evidenziato sempre di più.